questa volta voglio iniziare la recensione dell'oppo find x pro al contrario anticipandovi come spero ben sappiate nell'ultimo mese ho provato praticamente tutti gli smartphone animati dello snap 8 di prima generazione e nessuno di loro mi ha realmente colpito eccetto che con l'iq 9 pro il nuovo sock di qualcomm in realtà non ha mai mostrato veramente ciò che può fare e insomma nessuno degli smartphone che ho testato fino ad ora aveva quel quid in più che ti faceva dire cavolo questo ha introdotto veramente una novità che potrebbe cambiare le carte in tavola le carte in tavola però le potrebbe cambiare questo oppo find x5 pro sì i cinesi sono molto scaramantici i 4 porta sfiga in cina e quindi hanno deciso di saltare un po la serie 4 insomma è come se l'iPhone 13 si fosse chiamato iPhone 12 bis insomma comunque le carte in tavola le potrebbe cambiare questo find x5 pro per quello che si nasconde dietro il comparto del fotocamere ora vi dico subito una cosa diffidate da quelli che vi diranno o dai video che vedrete su questo smartphone nuovo di oppo in cui eloggeranno questa fotocamera perché attualmente devo dire che sì è un'ottima fotocamera ma ha ancora dei piccoli problemini soprattutto con l'ultra grande angolare e soprattutto con la gestione del colore che è buona grazie alla collaborazione con Alseblad ma tende a sbilanciare un po' quello vabbè di questo poi ne parliamo ma la fotocamera nasconde anche la nuova npu anzi la prima npu dedicata proprio alla fotocamera il mari silicon x è un nuovo sistema di stabilizzazione a 5 assi sulla fotocamera principale insomma di cose da dire su questo piccolino ce ne sono soprattutto su come gestisce lo snap quindi ragazzi iniziamo partiamo subito da un presupposto proprio a quel che mi riguarda l'oppo fendix 5 pro ha il miglior design di questo 2022 proprio esteticamente a me piace tantissimo è disponibile in due versioni purtroppo non abbiamo la versione nera quella che è protetta da un gorilla glass victus anche posteriormente e che è proprio una calamità per le impronte digitali come lo guardi questo smartphone si riempie di impronte poi c'è una versione più bella quella con il retro in ceramica che gestisce meglio le impronte visivamente a me piace molto di più e poi il doppio più resistente rispetto a quella con gorilla glass victus ad ogni modo ci accontentiamo che ci hanno mandato questa versione ma un piccolo appunto sul design della versione che viene venduta da noi c'è quelli di oppo sulla back cover potevano scrivere altre cose a questo punto perché è piena zeppa di scritte un altro po non lo so se ci scrivevano la ricetta di come fare la pasta e patate era meglio ho visto alcune recensioni di dispositivi venduti all'estero e non hanno tutte queste scritte quindi da noi insomma c'hanno una back cover piena di scritte loghi eccetera e questo stona un po ma torniamo seri oppo fendix 5 pro è uno degli smartphone che mi ha più fatto apprezzare questo design minimalista soprattutto negli ultimi due anni più o meno e l'ho fatto soprattutto con la linearità delle sue curve la compattezza del touch and fill e poi si sente proprio che quando lo si impugna si sta impugnando uno smartphone super premium tutta la scocca posteriore è un monoblocco che ingloba il camera bump proprio come il find x3 pro questa volta però cambia un pochino una forma di questa camera bump ma non c'è niente di particolarmente nuovo rispetto alla generazione precedente diciamo che è una versione esteticamente più ottimizzata rispetto alla find x3 pro sul lato destro è stato posizionato il tasso d'accensione e a differenza di quanto abbiamo visto nell's22 ultra che è uno smartphone del quale ho criticato proprio questa cosa quelli di oppo sono stati molto intelligenti a posizionare il bilanciere del volume sull'altra parte quindi sull'altra cornice allo stesso livello del tasso d'accensione che è sulla destra il che vuol dire che tutti i tasti sono facilmente raggiungibili anche quando lo si utilizza con una mano chiaramente è uno smartphone ip68 e integra il sensore per impronti digitali sotto lo schermo mentre l'effetto stereofonico viene garantito dall'utilizzo della capsula auricolare e ve lo dico è un ottimo effetto stereofonico l'audio è buono c'è un ottimo effetto di spazialità e anche il bilanciamento delle frequenze non è per niente male certo si sentono di più gli alti e non è assolutamente paragonabile a quello che troviamo nello shami 12 pro però devo dire che hanno fatto un buon lavoro c'è poi da dire un'altra cosa su questi smartphone di inizio 2022 tutti sono uniti da un filo conduttore ben preciso la qualità altissima dei display l'abbiamo visto nello shami 12 pro l'abbiamo visto nell'ottimo display del samsung galaxy s22 ultra e l'abbiamo visto anche in quello del oneplus 10 pro tutte le recensioni sono sul canale e proprio con il oneplus 10 pro l'oppo fendix 5 pro condivide lo schermo è uno schermo amoled a 120 hertz di tipo ltpo 2.0 da 6,7 pollici ed è in grado di riprodurre un miliardo di colori ed è compatibile con hdr 10 plus e certificato bt 2020 e non c'è niente da fare un pannello eccezionale che ha un'ottima densità di pixel per pollice che è di 525 pp come vi dicemo in linea di massima può essere paragonata a quello che abbiamo visto nel oneplus 10 pro che poi alla fine è il suo cugino e proprio come oneplus 10 pro la luminosità di picco è di 1300 nit quindi ben distante da 1750 nit di samsung galaxy s22 ultra ormai sappiamo benissimo che negli ltpo 2.0 quindi di seconda generazione il refresh rate è molto molto dipendente dalla luminosità per avere il refresh rate più basso bisogna avere la luminosità al massimo e devo dire che il lavoro fatto dopo è buono come quello che abbiamo visto su oneplus e con l'omenosità media il display si ferma intorno ai 10 hertz però devo dire che questa è una cosa buona soprattutto in quanto a consumi del pannello e di batteria ne parliamo a brevissimo ad ogni modo c'è poco da dire sullo schermo dell'oppo fendix 5 pro perché è brillante ha neri profondi e contrastato da un buon bilanciamento di colori bianchi è un ottimo schermo ragazzi non c'è niente da fare e le immagini sembrano quasi stampate su un foglio di carta anche perché lo spessore tra la superficie touch e quella del pannello è veramente molto molto piccolo e quindi è come se si toccasse direttamente il pannello veniamo adesso all'hardware miei cari questo piccolino è animato da uno snap 8 di prima generazione a 12 gigabyte di memoria ram di tipo lp ddr5 e memoria interne che variano in base alla taglia che si acquista di tipo ufs 3.1 che non sono espandibili tramite micro sd ora lo so che c'è chi elogia questo snapdragon 8 di prima generazione ma sappiamo tutti e l'ho notato anche su in prova con giz che tutti gli utenti che sanno che uno smartphone è animato da questo processore si preoccupano di un fattore che effettivamente tende a dare un po fastidio a questo processore cioè la temperatura il surriscaldamento e vi dico una cosa dal punto di vista delle prestazioni questo oppo find x 5 pro non è lo smartphone animato da uno snap 8 di prima generazione che ha il maggior punteggio nei vari benchmark non ce l'ha però neanche un punteggio bassissimo diciamo che secondo me la strategia intrapresa da oppo per la gestione di questo processore è la più giusta ed è la più giusta anche se una cosa mi ha fatto un pochino preoccupare come noterete dal grafico questo è lo stress test di antutu vedete a differenza degli altri smartphone che abbiamo testato con questo processore che tendevano molto a tagliare le performance della cpu in find x 5 pro in realtà la cpu va sempre al massimo vedete il grafico è piuttosto lineare ma arriva ad un certo punto dove probabilmente supera la temperatura di sicurezza e quindi il sistema cosa fa per sicurezza appunto abbassa le prestazioni del processore abbassando le frequenze di clock e questa cosa mi ha subito fatto scattare un po un campanello d'allarme perché mi sono detto ma se funziona così vuol dire che quando si gioca lo so che voi direte chi compra lo smartphone per giocare c'è gente che compra lo smartphone per giocare comunque mi sono subito preoccupato del fatto che magari quando si giocava per lunghe sessioni di gioco beh all'inizio si aveva una prestazione al massimo e poi quando si surriscaldava lo smartphone il frame rate tendeva a calare fortunatamente ho fatto uno stress test con 3d mark ed effettivamente mi sono reso conto che dopo un piccolo calo di prestazioni ma proprio all'inizio il frame rate in base alla temperatura era piuttosto stabile devo dire che hop ha fatto un ottimo lavoro soprattutto considerando che la temperatura non ha mai superato circa i 40-42 gradi e questo è un ottimo traguardo considerando le prestazioni considerando quindi soprattutto il processore che è un forno a induzione questi però chiaramente sono solo numeri lo sappiamo nell'uso di tutti i giorni lo smartphone va che è una scheggia è velocissimo non ha alcun micro lag funziona veramente molto bene e c'è ben poco da dire circa le prestazioni insomma qualsiasi cosa vogliate fare con un dispositivo mobile con l'oppo fend x pro lo potete fare lo potete fare anche molto bene e ora si parla di fotocamere se volete sapere che cos'è questo mari silicon x e come funziona sul sito sul giz china trovate un approfondimento molto molto approfondito se non era un approfondimento ad ogni modo data la presenza di questa npu che gestisce proprio le fotocamere che in soldi dovrebbe migliorare proprio la funzionalità dell'intelligenza artificiale sia nelle foto sia nelle foto notturne che nei video e nei video notturni ma dei video notturni a breve ne parliamo e data la presenza del nuovo sistema di stabilizzazione le mie aspettative erano molto alte su questo smartphone e forse è proprio perché le mie aspettative erano così alte che sono rimasto un pochino deluso dai risultati oppo subito ci ha detto ragazzi guardate che questo è un software non definitivo quindi fate i vostri test ma traete le conclusioni un po' con le pinze aspettate che esca la versione originale ok però devo dire una cosa effettivamente la presenza di questa npu si vede nella velocità di scatto nella velocità di riconoscimento delle scene ma ci sono alcune cosette soprattutto con la grandangolare che non è che meno tanto comunque una cosa alla volta ora non frentendetemi perché le fotografie scattate con questo smartphone sono eccezionali soprattutto in condizioni di buon luminosità sono delle ottime fotografie il punto è che io mi aspettavo qualcosa di incredibilmente bello invece sono rimasto un pochino deluso perché oppo fendix 5 pro riesce a scattare ottime foto probabilmente in alcuni casi tra le migliori del settore però non è che ha quel quid in più secondo me ad ogni modo il comparto fotocamera di oppo fendix pro è composto da una fotocamera principale da 50 megapixel che utilizza un sensore sony mx766 e che sfrutta la nuova stabilizzazione a 5 assi con la quale si può utilizzare una compensazione antivibrazione di 3 gradi ed una stabilizzazione rotazionale di 0,7 gradi ed è veramente una figata secondo me c'è poi un ultra wide che utilizza lo stesso sensore della fotocamera principale ma non lo stesso sistema di stabilizzazione e poi c'è un terobiettivo con un ingrandimento 2x da 13 megapixel nel quale la stabilizzazione è stata un po' dimenticata comunque la prima cosa che si nota quando si scattano le fotografie con oppo fendix pro è la mano di Hasselblad soprattutto nel bilanciamento del colore lo abbiamo visto anche con il oneplus 10 pro questo è vero e devo dire che in condizioni di buona luminosità gli scatti sono veramente buoni gestiscono benissimo la gamma dinamica hanno tanti dettagli sono veramente dei bei scatti un buon contrasto l'unico problema c'è con la fotocamera grandangolare che secondo me tende a scattare delle fotografie molto più scure nonostante utilizzi lo stesso sensore cambia l'ottica chiaramente ma diciamo la differenza qualitativa tra le foto scattate con la fotocamera principale e con la fotocamera oltre al grandangolare ci sono e io probabilmente penso che questo sia anche un problema di ottimizzazione del software buone le foto scattate in condizioni di buona luminosità con lo zoom 2x che diciamo sono nella media non è che lasciano gridare al miracolo e diciamola tutta ragazzi in condizioni di buona luminosità la presenza del mari silicon x e del nuovo sistema di stabilizzazione porta ad un miglioramento sì ma porta ad un miglioramento solo in quelle foto che si vedono un po' croppate perché ingrandendo molto le immagini ci si rende conto che tutti i dettagli anche quelli più distanti e più piccoli sono sicuramente gestiti meglio e soprattutto non soffrono di micromossi quindi da questo punto di vista ci sono dei passi in avanti ma solo se si notano questi dettagli di notte invece le cose cambiano un pochino e cambiano un pochino perché? allora prima di tutto in condizioni di estrema poca luminosità ci sono dei problemi con l'ultra grandangolare che tende a scattare fotografie veramente molto 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 scure rispetto a quelle che si scattano con la fotocamera principale e con lo zoom ottico nelle stesse condizioni di scatto lo avrete notato dai sample che state vedendo mi è bastato accendere giusto un faro per illuminare un po' l'ambiente per far cambiare totalmente le cose ed è in queste condizioni che tutto il sistema pensato dopo dà il meglio di sé perché le fotografie sono ben gestite c'è un'ottima gamma dinamica si vedono bene le parti scure le parti più chiare devo dire però che con lo zoom ottico potrebbe capitare che si verifichi un po' di rumore soprattutto nelle zone un po' più scure e soprattutto lungo i bordi dell'immagine ma devo dire che dal punto di vista qualitativo siamo sui livelli veramente molto molto alti la fotocamera anteriore è veramente ottima è tra le migliori in circolazione grazie all'utilizzo del sensore Sony IMX709 e sono ottimi video che però possono essere registrati alla risoluzione massima 4K a 60 frame al secondo ora Oppo ha spinto tantissimo sul fatto che il Fendi X5 Pro sia il migliore smartphone per registrare video di notte i video tra l'altro si possono registrare anche con l'effetto sfocato con tutte le fotocamere per quanto riguarda il giudizio dei video notturni ragazzi purtroppo lo devo rimandare lo devo rimandare perché non me la sento di fare come dire non lo so di non essere totalmente sincero perché Oppo ci ha detto ragazzi soprattutto per i video notturni aspettate che esca la versione ufficiale del software perché quelli di adesso tendono a scattare in effetti si è vero tendono a scattare quindi sicuramente vedrete recensioni in cui tutti diranno che sono video notturni fantastici in realtà no almeno con questa versione software quando Oppo rilascerà l'aggiornamento ufficiale allora magari farò un altro approfondimento proprio sui video notturni e sono convinto conoscendo Oppo che tutti i problemi che adesso ci sono saranno risolti in quanto a software Oppo Fendi X5 Pro è animato da Android 12 personalizzato dalla ColorOS 12.1 conosciamo benissimo l'interfaccia grafica di Oppo e in questo dispositivo rimane la solita interfaccia grafica di Oppo non c'è niente da fare c'è però una novità e sono le Air Gesture le abbiamo viste anche su altri brand qualche anno fa e sono quelle funzioni con le quali grazie alla fotocamera frontale si potranno scorrere e gestire le applicazioni non toccando lo smartphone ma semplicemente muovendo la mano e rivolgendola chiaramente verso la fotocamera è una cosa che io sinceramente non è che utilizzo e non è una funzionalità che mi fa impazzire ad ogni modo sappiamo tutti che la ColorOS è un'interfaccia grafica super personalizzabile c'è una cosa però che volevo sottolineare cioè l'impostazione che ha dato Oppo alle animazioni sono dell'idea che Oppo abbia deciso di rallentare troppo le animazioni e diciamo che quando si utilizza questo sistema operativo quando si fa uno scorrimento quando si apre un'applicazione è tutto troppo lento e non è lento perché ci sono problemi di software di bug o di potenza hardware è proprio lento perché Oppo ha deciso che deve essere lento quindi è un'opzione che si può modificare ma io per trasmettere tutta questa potenza avrei pensato diciamo ad una gestione un po' più veloce di tutte le animazioni ma questo è proprio un dettaglio per psicopatici come me in quanto a batteria Oppo Fendix 5 Pro è animato da una 5000 mAh a due celle che riesce a garantire una giusta autonomia devo dire la verità perché con display al massimo del refresh rate al massimo della risoluzione sono riuscito ad arrivare a circa 7 ore di display acceso è un traguardo niente male soprattutto considerando lo Snapdragon e il display che è un signor display la ricarica è da 80 watt c'è poi una ricarica wireless a 50 watt che richiederà circa 47 minuti per una ricarica completa e ora veniamo al prezzo Oppo Fendix 5 Pro costa 1299 euro quindi ragazzi 1300 euro non è un prezzo proprio economico però in occasione del lancio gli utenti potranno soffrire diverse promozioni con la versione Pro si riceverà in regalo Enco X Watch Free la base di ricarica wireless a 50 watt e Duna Cover il tutto a un valore commerciale di 406 euro poi chiunque sceglierà di preordinare la nuova gamma Findix 5 su Oppo Store dal 25 febbraio al 17 marzo riceverà un voucher di 100 euro che si potrà utilizzare sempre sullo store di Oppo insomma ragazzi è un prezzo ultra premium per uno smartphone si ultra premium uno smartphone ultra premium in tante cose che però ad oggi non mi sentirei di finire il miglior camera phone che c'è in circolazione sappiamo come Samsung per esempio abbia lavorato bene sull'S22 Ultra le aziende che negli ultimi anni hanno tentato di introdurre novità che potevano cambiare un po' le carte in tavola sono tante l'unica azienda che l'ha veramente fatto nel corso degli anni è veramente Oppo Oppo ha inventato lo zoom periscopico ed è questo quello che secondo me manca su questo dispositivo perché con uno zoom periscopico con un ingrandimento un po' più grande sarebbe risultata molto dinamica non sono riuscito bene a capire per quale motivo lo zoom ottico l'abbiano inserito con questo sensore un po' più piccolo e con un ingrandimento 2x che ormai è diventato quasi insufficiente voglio dire perché con le fotocamere principali di oggi le foto in due peri si possono fare senza troppa perdita di qualità ma sono convinto che la presenza del Mare Silicon X sia una cosa che se sfruttata a dovere potrebbe veramente cambiare le cose soprattutto per la fotografia computazionale che c'è dietro tutti questi smartphone staremo a vedere spero che nei prossimi aggiornamenti Oppo migliori alcune cosette come per esempio una tendenza al ciano nel bilanciamento del colore delle fotografie in determinate condizioni di scatto bene ragazzi questo è quanto questo era Oppo Fendi X5 Pro spero che la recensione vi sia piaciuta nonostante mi rendo conto un pochino lunghetta fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi a Improva con Giz il nostro gruppo Telegram del quale vi facciamo vedere i backstage di tutte le recensioni se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivate la campanella io sono Dario Calino e ci vediamo al prossimo video su Giz e ci vediamo